Il spettacolo più atteso della giornata, l'esperienza del nostro uomo proiettile, il più coraggioso di tutti, che tra pochi minuti verrà lanciato dalla gigantesca bottiglia e poi dopo un volo di oltre 10 metri attenererà su un grande airbag, tutto questo per festeggiare i 40 anni di Gardaland. E oggi per l'evento abbiamo con noi il re di Gardaland. Ragazze, ragazze e tutti quanti accogliete con un grande applauso Prezzemolo! Il re di Gardaland è qui con noi per questa grande avventura. Grazie Prezzemolo per questi 40 anni di magia insieme. Ed ora signori vorrei spostare la vostra attenzione sulla grande bottiglia. Ammirate la maestosità della bottiglia. Oltre 5 metri di lunghezza, 2 tonnellate e mezzo di peso, tanto quanto 3 elefanti indiani. Lì dentro entrerà il nostro uomo proiettile e dopo essere stato sparato per aria raggiungerà un'altezza di oltre 10 metri e alla fine atterrerà su questo gigantesco airbag. Un'erbe talmente grande e pensate, contiene tanta aria, tanta quanta necessaria per poter gonfiare 90.000 palloncini. Provate a immaginare. Ed ora è arrivato il momento di presentare lui, il protagonista di questa impresa. Preparate la voce, preparate le urla. Signore e signori, ragazze e ragazzi, ladies and gentlemen, boys and girls, vicino alla bottiglia, l'uomo proiettile. Vai con le urla, vai con gli applausi. Fatevi sentire di più, di più. Coraggio. Ecco il temerario e indobito uomo proiettile. Siamo tutti contenti. Buona fortuna. Ecco, in questo momento l'uomo proiettile si sta preparando all'impresa. Sta entrando dentro la gigantesca bottiglia e tra pochi minuti la bottiglia si solleverà verso il cielo. Prestate attenzione. Un consiglio a tutti i bambini. Al momento dello sparo, tappatevi le orecchie. Prezzemolo, tutto è quasi pronto. Ecco la bottiglia. Ecco la bottiglia che sta raggiungendo la sua posizione di lanci. Siamo arrivati al pugnino. Tutto è pronto. La bottiglia è in posizione. Ancora qualche istante di sospanso. Siamo pronti? E' tutto pronto? Attendo un cenno dal nostro tecnico. Vabbè, chiudi un attimo, fuggi. Tutto è pronto. Ha inizio il conto alla rovescia. Vi raccomando, aiutateci anche voi. Aiutateci anche voi. State pronti? Meno 5, 4, 3, 2, 1, go! Per me tutti. Tutti a posto. Sì! Un applauso al grande indambito Uomo Proiettile! Eccezionale! Eccezionale! Un urlo fortissimo per il vostro eroe! Grande! Grazie Uomo Proiettile! Ha portato a termine di presa per i 40 anni di Gardaland. E grazie a tutti quanti voi le diseggezze le vede che i festeggiamenti continuino! Buon anniversario a Gardaland! Grazie a tutti!